ciao a tutti e benvenuti a questo video sulla motivazione intrinseca e sull'autodisciplina siamo spesso condizionati a pensare che la motivazione sia qualcosa che ci viene dall'esterno come un premio o una gratificazione ma la verità è che la motivazione vera e propria quella che ci porta grandi risultati è la motivazione intrinseca quella che nasce da noi stessi dalle nostre passioni e dalle nostre aspirazioni la motivazione intrinseca è quella che ci spinge a fare le cose perché ci piacciono perché abbiamo un obiettivo personale che vogliamo raggiungere perché ci sentiamo realizzati quando lo facciamo questo tipo di motivazione è più forte più duratura e più gratificante di quello esterno perché viene da dentro di noi ma la motivazione intrinseca da sola non basta è necessario avere anche un'altra componente importante l'autodisciplina l'autodisciplina ci permette di rimanere concentrati sui nostri obiettivi di resistere alle tentazioni e di rimanere motivati anche quando le cose si fanno difficili e come si fa ad avere autodisciplina principalmente attraverso l'abitudine se creiamo delle routine delle abitudini che ci portano avanti verso i nostri obiettivi diventa più facile rimanere disciplinati e motivati ad esempio se vogliamo imparare una nuova lingua possiamo creare l'abitudine di studiare ogni giorno alla stessa ora o se vogliamo perdere peso possiamo creare l'abitudine di fare attività fisica ogni mattina in sintesi la motivazione intrinseca e l'autodisciplina sono due componenti fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi la motivazione intrinseca ci spinge a fare le cose che amiamo mentre l'autodisciplina ci permette di rimanere concentrati sui nostri obiettivi e di resistere alle tentazioni e le abitudini sono la chiave per sviluppare l'autodisciplina quindi se volete raggiungere grandi risultati nella vostra vita ricordate di coltivare la motivazione intrinseca l'autodisciplina e di sviluppare abitudini che vi portano avanti verso i vostri obiettivi grazie per avermi seguito fino alla fine del video spero che tu abbia trovato utile e interessante il contenuto che ti ho presentato oggi e se è apprezzato il mio lavoro ti invito ad iscriverti al mio canale e di non perdere i prossimi video